Dovevo andare ad ascoltare una conferenza stasera. Il maggiore generale Sandberg avrebbe dovuto parlare della ritirata strategica. Io ci sono andato, ma era stata annullata naturalmente. Ero uscito di casa con un po' di anticipo, naturalmente. Perché volevo prendere l'autobus delle 19 e 22. Ha cominciato a piovere, naturalmente. Non avevo l'ombrello, naturalmente. Quindi ho deciso di ritornare di corsa a casa a prenderlo, naturalmente. Perché ero convinto che fosse lì a casa. Invece non c'era, naturalmente. Mentre andavo alla fermata dell'autobus si è messa a piovere anche di più. E così mi sono inzuppato, naturalmente. E alla fine, proprio mentre sto arrivando alla fermata, vedo l'autobus che sta partendo. Cioè l'ho perso. Naturalmente. Ho dovuto farmela a piedi. Naturalmente. Quando sono arrivato, là non ci ho trovato anima viva, naturalmente. Sulla porta c'era un biglietto con scritto che era stata annullata. Una bella fregatura, naturalmente. Inplicazione di unico finale. Grazie a tutti.